Benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo LLLuneti Letto, leggendo e leggerò il mio aggiornamento di lettura settimanale in cui vi dico che cosa ho finito, cosa sto leggendo e cosa leggerò in futuro A fine video vi farò una piccola domandina a cui potrete rispondere giù nei commenti e i libri che ho amato avranno il link di affiliazione Amazon se vorrete comprarli da lì, mi entrerà una piccola percentuale, a voi non cambierà nulla Veniamo subito ai libri finiti Prima vi parlo della luce come l'acqua, un libro di Garzia Lorca Sì Lorca, ho detto Lorca, Marquez, Gabriele Garzia Marquez I miei lapsus e sono una serie di racconti che lui dice essere per bambini gli ultimi due ma non è vero mai Io devo farvi uno spoiler, un solo racconto Vi spoilerò solo una cosa, cioè che succede in un racconto? Ma anche perché questo è praticamente fuori catalogo C'è un racconto in cui una classe di bambini delle elementari muore affogata Nella luce ma muore affogata Non è un libro per bambini, non lo consiglierei a nessun bambino perché non voglio traumatizzarli E però mi è piaciuto molto lo stile di scrittura, è sempre molto particolare Le storie sono stranissime come al suo solito C'è anche un po' di magia, realismo magico Niente di eclatante, non è ovviamente uno da cui partirei per Marquez Poi ho finito, povere creature Allora diciamo che fino a qui ero fomentatissima E calcolate che qua il libro finisce Cioè qui il libro finisce, tanto per dire qualcosa di strambo Ero super fomentata, lo stavo adorando, adorando, vi giuro Anche più o meno il finale Però poi succede una cosa particolare Che ovviamente nel film non esiste Come non esiste niente dopo la metà del libro E mi ha fatto un po' sorcere la bocca Sono passati svariati giorni da quando l'ho finito In effetti ho capito e ho assimilato il finale Però mi ha tolto una stella Io stavo per dare 5 stelle Perché lo stavo per considerare uno dei libri più belli Ma nel finale, sempre anche per la sua pedanteria Di fissato che vuole dimostrarmi Che questo in realtà è un libro reale E che quello che racconta è realistico Ribalta tutte le carte in tavola Come esperimento letterario Ho adorato tutto Perché i punti di vista stavolta sono proprio Di narratori inaffidabili E tutto si modifica E tutto si trasforma Ed è veramente molto interessante E la cosa interessante è anche Che tutti i personaggi Sono contraddittori all'interno di quello che dicono In più ogni volta che tu hai un dubbio Lui te ne inserisce un altro Quindi non vi darà delle risposte questo libro Vi dovete creare una vostra ipotesi Hanno tutti delle conclusioni Tutti i narratori possiamo dirla così Però non sai a quale credere Finisce sempre in modo diverso Ci sono dei punti fermi Pochi Che corrispondono a tutti quanti Ed è super particolare Il fatto che non è che Ognuno racconta la sua visione Di quello che ha vissuto O almeno non tutti Ripercorrono tutto quello che hanno vissuto Quindi Che dire Forse leggerò altro di Alas Deir Grey Forse Soprattutto uno che dicono Essere forse il suo più famoso Che non era Poveri Creature Che ha anche come titolo Molta più attinenza nel libro Perché Poveri Creature Viene ripetuto in continuazione Cosa che non ho notato nel film Ma c'era anche un altro libro suo Molto importante Che viene considerato Tipo un altro Ulisse Vabbè Non lo trovo più Ah L'Anarch Credo Una vita in quattro libri Forse il film mi ha rovilato il libro Può essere Perché mi aspettavo qualcosa di più lineare Ho apprezzato tutte le scelte del film Che sono completamente diverse Quindi potete vedere Potete leggere il libro Senza paura di spoiler Comunque Una delle discussioni Che ho adorato E' anche una sulle religioni Sapete che io sono atea E non ho alcun tipo di religione E non credo in nulla Quindi queste discussioni Mi piacciono proprio fine a se stesse E qui dice Baxter scosse la testa e ribatte Solo le religioni scadenti Si basano su misteri Proprio come i governi scadenti Si basano sulla polizia segreta Verità Bellezza E bontà Non sono misteriose Sono i fatti più comuni Ovvi ed essenziali della vita Come la luce del sole L'aria E il pane Solo le persone con il cervello confuso Da un'educazione costosa Pensano che verità Bellezza E bontà Siano rare proprietà private La natura è più generosa L'universo non ci nega nulla di essenziale Ci regala tutto Dio è l'universo Più la mente Chi dice che Dio L'universo La natura Sono misteriosi Fa come chi definisce Queste cose gelose O arrabbiate Tradisce soltanto Lo stato solitario E confuso Della propria mente E c'è tutta Poi una Riflessione Sui misteri E anche Sulla gentilezza Per esempio Qui dice Ma quello che tu chiami mistero Io lo definisco ignoranza E nulla di ciò che ignoriamo In qualsiasi modo Vogliamo chiamarlo È più santo Sacro e meraviglioso Delle cose che conosciamo Delle cose che siamo L'affettuosa gentilezza Della gente È quello che ci crea E ci sostiene Mantiene in vita La nostra società E ci consente Di muoverci liberamente Al suo interno E io sono molto Molto a favore Con questa idea Di mondo E di realtà Perché la gentilezza È importante Io me lo devo ricordare Molto più spesso Va bene Soprattutto quando vado al lavoro Ma questi sono dettagli Andiamo avanti Solita cosa Stiamo leggendo questo in live Non mi dilungo Vi lascio la playlist Delle live Se mai riusciremo A finire questo libro Ma chissà Chissà Io non lo so Voi lo sapete Ditemi Poi un altro libro Che sto ascoltando In audiolibro Che non ho intenzione Di comprare mai È Via col vento Signori Signori Non sono tipo Neanche a metà Sono arrivata Ad ascoltarlo per tre Questo è diventato Una questione De tigna E non mi fa bene Lo sappiamo tutti Che non mi fa bene Io lo so Che non mi fa bene Ma lo faccio lo stesso Lo sto odiando Mi fa schifo Tutto Odio tutti Non vedo l'ora Che perdano la guerra Perché tanto lo sappiamo Come è finita la guerra Di secessione Si dice quella americana E non vedo l'ora Di vederli annientati E spero che muoiano Tutti malissimo Bene E l'unico decente In questo contesto Anche se fa molto schifo Anche lui È Rhett Che è praticamente Il coprotagonista Maschile Anche se Questa non è Assolutamente Una storia d'amore Non lo è per niente Anche perché La protagonista Non ama Rhett E non credo Che lo amerà mai Però sono pronta A ricredermi E Rhett Dice ai suddisti Quello che sono Ossia Una manica Di ignoranti Che ha tra le sue armi Soltanto cotone E schiavi E che perderanno malissimo Cosa reale Perché è proprio così Loro non hanno altro Che arroganza Cotone E schiavi Quindi Cioè io non provo empatia Per nessuno Non vedo l'ora Che gli cadano Sulla testa Tutte le tragedie del mondo Cosa che capiterà Quindi non vedo l'ora Che succeda Mi fa schifo Io non capisco Come vi piaccia Seria Ora seriamente Visto che io Non ho mai Mai In assoluto Mai Trovato una recensione Negativa Su Via Colvento Fatemi sapere Che cosa vi piace Di questo libro Perché io lo sto Solo disprezzando In ogni sua pagina La protagonista Non ne parliamo Cioè veramente Sarebbe da prendere A calci in faccia Ma Senza aggiungere Altra violenza A questo video Andiamo a leggerlo Ho fatto un po' di acquistini Devo essere onesta Perché sono entrata In libreria Soprattutto per comprare questo Ossia Quando muore Resta a me Di zero calcare L'ultima graphic novel Che ha pubblicato Non vedo l'ora Di leggerla E tra l'altro Penso proprio che Mi dedicherò A questa nei prossimi giorni Magari anche In un paio di giornate Lo finisco Questo Adoro zero calcare Non l'ho comprato Alla fiera del libro Solo perché Non avevo voglia Di fare la fila Per fare il disegnino E poi pesa Un quintale È proprio grosso Quest'anno È proprio grande Grande Sono contenta di questo Perché più tavole ci sono Più sono contenta E non volevo portarmelo Appresso nel salone del libro Però era ovvio Che l'avrei comprato Veniamo a noi A parte la domandina Su via col vento Quando è stata l'ultima volta Che siete entrate in libreria Colpo sicuro Perché volevate comprare un libro Allora Ve lo dico Perché a me non succede mai Io non vado in libreria E compro una cosa Che aspettavo Perché di solito Non aspetto le nuove uscite E sono le uniche Che in effetti Trovi subito Quando vai in libreria Questo è L'unica eccezione Corrisponde All'unica eccezione Che posso fare Cioè esce un nuovo Vado in libreria apposta Sono curiosa di sapere Se voi siete mai andati In libreria O se vi è capitato Ultimamente Di andare a colpo sicuro Per prendere qualcosa Ora Non mi rimane che augurarvi Buona lettura Ciao Ciao